Siamo venuti a conoscenza che ne va delibera sui caffè concerto, c'era Vildiniego per una parte di via Crociferi e ci siamo chiesti il perché e allo stato attuale non abbiamo avuto nessuna risposta da parte dell'amministrazione su questo tema che riguarda dei commercianti su quel tratto che non hanno più la possibilità di lavorare. E avete esposto anche dei cartelli per protestare? Perché manca appunto in questa città, manca la politica del commercio, questa è una politica che deve guardare la città a 360 gradi, questo è un momento molto difficile per la città e va affrontato a questo tema con un tema principale. Vildiniego riguarda i 100 metri della via Crociferi, quindi non so perché sia stato scelto proprio quel tratto questo ho chiesto all'amministrazione e su questo vorrei una risposta certa perché nel frattempo ci sono delle attività che stanno avendo.